Sandro Zanon, si parla oltre che di politica anche di aziende nelle Porto Guarese, che bilancio possiamo fare, che andamento si percepisce, visto che lei ha la situazione sottomano come App Industria Venezia? Sì, la situazione è di una lenta ripresa, tuttavia solo quella accompagnata da incentivi e forme di agevolazione che possono essere messe in campo attraverso strumenti che partono dal Ministero e forme regionali, ma che devono essere seguite dall'associazione di categoria. Quello che App Industria sta cercando di fare nel territorio, a Porto Uruaro, nella città metropolitana di Venezia, non solo, è quello appunto di seguire le aziende per la parte burocratica e non solo per accompagnarle a forme di sostentamento aggiuntivo che possono appunto apportare migliorie e dare quello slancio, quel respiro, che altrimenti senza del quale in molti casi non sarebbero in grado di poter emergere, di poter garantire la propria produzione e quindi occupazione. Questo lo stiamo facendo, i risultati ci stanno dando ragione ed è possibile solo appunto con un lavoro di squadra, di sinergia, segno che ancora una volta solo insieme, mettendosi insieme, si può creare qualcosa di positivo da soli, altrimenti si farebbe poca cosa. Lei parlava di luce in fondo al tunnel, insomma sono anni comunque difficili anche post 2012, di che cosa hanno bisogno le imprese? Sicuramente di stabilità, che sotto più forme e aspetti, quindi molto dipende anche dalla politica e dalle politiche, cioè da quello che il legislatore è in grado di poter mettere in campo e possibilmente in forma duratura, quindi con una prospettiva futura medio-lungo termine e non con continui aggiustamenti e modifiche nei vari anni, se non semestri, che di certo questo non garantiscono fiducia, progettualità, programmazione anche per le piccole e medie imprese, non solo per quelle più grandi. Questo sicuramente sta alla base. Dopodiché la burocrazia, quello è evidente, riguarda un po' tutte le fasi e settori e lì la strada da fare è ancora molta, perché ovviamente le difficoltà ci sono e sono riscontrabili quotidianamente anche da chi non ha un'impresa. Flat tax, abbassamento delle tasse, lei la vede una cosa possibile? Ma innanzitutto bisogna partire dal concetto, credo, di progressività, che è quello che dice la nostra Costituzione, quindi non è necessariamente vero che un'aliquota unica possa essere la soluzione per tutti. Come tutti i provvedimenti avvantaggiano alcuni e svantaggiano molti, bisogna vedere poi se il gioco vale la candela. Diciamo che ci sono molti provvedimenti, molti piccoli incentivi, che se rifinanziati possono essere molto utili all'azienda e sanno trarne beneficio anche appunto partecipando e cogliendo questa opportunità che il legislatore mette a disposizione di chi fa impresa. Grazie Alessandro Zanon per essere stato con noi, Lina che può tornare a Pordenone.